E' il momento dell'unità, è il momento storico per ribadire a pieni polmoni che questa terra meravigliosa, la nostra provincia di Salerno, ha bisogno di uno scalo aeroportuale che finalmente decolli. A parlare è il presidente della Confesercenti provincia di Salerno, Raffaele Esposito, dopo aver ascoltato attentamente il grido d'allarme delle associazioni turistiche maggiormente rappresentative e del mondo istituzionale campano, che il prossimo 21 febbraio si ritroveranno a Pestum per definire le azioni da adottare per far sbloccare l'iter che consentirebbe l'avvio dei lavori di ammodernamento dello scalo. All'incontro che si terrà presso l'hotel MEC hanno già garantito la propria presenza i rappresentanti del settore turistico dell'intera campagna, parteciperà anche il direttore del Museo archeologico di Pestum, Zuck Trigel. Una presa di posizione partita dagli operatori del Cilento, che si sono recati più volte presso l'aeroporto Costa da Malfi, scoprendo in questi giorni che i lavori non possono partire perché di fatto il Ministero delle Finanze e quello dei Trasporti non firmano il decreto che consentirebbe alla società che gestisce lo scalo di mandare in appalto le opere. Quella più importante è l'allungamento della pista a 2000 metri. E' in fase di redazione un documento che sarà presentato in occasione dell'incontro a Pestum, un documento che sollecita i Ministeri a firmare il decreto. La nostra provincia, ribadisce Esposito, non riesce a soddisfare le potenziali richieste dei mercati esteri perché vi è l'assenza di uno scalo aeroportuale internazionale con i giusti standard europei.